Grazie a tutti 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 Poi ci sono i rischi, i rischi, i rischi, i rischi, i rischi, i rischi. Stanno i rischi. Stanno i rischi. Stanno i rischi per la possibilità di rischiare il più grande di Dio. Per questo non abbiamo dei scegliere in Eglessia, non abbiamo di angliostia, non abbiamo di rischi, perché il rischio può essere di rischi. Poi? Quando è inattaccato nel suo corpo di Gesù in Ecclesi. Per questo, perché in Ecclesi sono tutti. O più, i amortizzati, i difficolti, i difficolti. Perché il tutto per noi è il nostro paese, il nostro paese, il nostro paese, il nostro paese, è l'accommodo il nostro paese. E' il nostro paese, quello che non ci vogliamo. E' il nostro paese. E' il nostro paese. E' così, per la prima cosa, il nostro paese è il nostro paese. E' questo è il nostro paese che siamo in questo. Perché perchei, Per quanto riguarda i primi problemi, per quanto riguarda i problemi, per quanto riguarda i problemi, bisogna avere il criterio, il metro, di cui abbiamo avuto il cui l'acciovalo la vita e le cose. Vediamo la visione. Surtro i ragazzi, che sono gli ragazzi, che è una città e un'occoli sottotitoli, non so, per quanto riguarda il giovane. È una relazione, una relazione, una relazione. perché è così dovrebbe essere. Non ha capire il caso di un uomo. O come non abbiamo critérioriosi, non abbiamo critérioriosi, 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 quando succede qualcosa, come lo faremo e lo vediamo? Con la nostra attenzione, con la nostra crisi, con la nostra crisi, con la della crisi del Comunio, con la cultura dell'Аn, o con la del Viene, con la exonerazione del Viene, con la legna del Viene, con la Tecnica del Viene, con la Luzio del Viene. Questo è il domani. Ciò che si chiede del Viene ognuno di Gesù, ma cosa ognuno di Viene e che unità dell'Antonicità a noi. Questi sono le cose che facciamo nella vita, sono le cose che vogliamo vivere dentro di noi per avere un'aligno. Perché ciò che vediamo? Ci sono le persone che non abbiamo capito quali è il lato che viviamo, quali è il lato che viviamo, quali è il lato che viviamo. Questo succede anche in ogni settimana. Non abbiamo capito, non abbiamo capito, l'occhio, il giovane, il giovane, il quale, quali sono le critiche? Ci sono sussi con il voglio di Dio? Ci ha il fuoco, ci ha la vita, ci ha il nore. E' un'alto che è iniziato sui problemi, sui tanti, sui tanti. Come dicono i nostri paesi, le scopi, ci sono i cuori. Il cibo è il cibo. Il cibo è il cibo. Il cibo è un cibo. Il cibo è un cibo. Il cibo è un cibo, Il fenomeno che è il fatto che viviamo in più giovani e senza niente e senza grazia. La obusione della grazia è una grande grazia. E quando dice grazia, non la rinomiamo con la cosmiore, con la psichologia. E siamo i chiasni di rinomini, con la rinomini. E la rinomini di rinomini. C'è l'unico che è un'escrizione, un'attacco, un'elemento che è importante. E' un'escrizione. E' il fatto qui è che è un'immagine che è il rischio, che è il rischio. E' questa è il rischio. Vieni in tutto qui? Ecco a l'escrizione, è il rischio di bisogno. Allora, siamo qua inizia di sotto i nostri incontri, nella qualchezza, nella nostra perfezione, nella nostra perfezione. È che per la nostra perfezione e nelle quelle delle interessi. E' la nostra perfezione. E' la nostra perfezione. ma vediamo che è il Pneuma del Christi, ma lo sceglione, ma lo sceglione, ma lo sceglione, ma lo sceglione. Il sceglione, come dicevo, è il Christo. Chi si chiama questo? Chi è chi è? 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 Chi è chi è chi è chi è! Chi è chi è chi è noi iniziamo. Come va diccio la nostra amласione, noi stiamo avuto a quello della cosa del Cristo. Per quello che si è chi si è chi autore, qui si è chi tra l'amana. Quindi, la nostra amici alessione, c'è chi è chehu che av�eggi. La mia amici, nel primo tempo, è senza di lavoro, ma un modo, non solo. Non solo lavorare, ma con sezionamento, con amici, con amici, con amici. Perché, vorrei parlare meglio di tutto, è l'incituzione. Sono l'incituzione. Ecco l'unico, ecco l'unico, ecco l'unico. E' unico, ecco l'unico. E' unico, ecco l'unico, ecco l'unico. Ok, semplicemente, ecco l'unico, e' unico che mi sta a dire, ma deve-mi nevo'ce il suo Signore. E' unico, ecco l'unico, che potuto, ecco l'unico. E' unico, ecco l'unico, non socover, ecco l'aere, unico, ecco l'atuico, ecco l' nostroently, e' unico che vuole, oire le posso dire ciò che vuole lui. E' unico che vuole, il tuo seno per esempio, è unico, è unico, è unico, è unico, è uno. Il suo detto, ecco l'unico, ciò che vuole il tuo secondo è... e con le bisogni di Sperare, la vorne della collezione siamo ciao a tutti! siamo always chiesti altri siamo sempre chiesti altri siamo alle chiesti siamo alle chiesti anche la mia vita e la cancara cooking il paese i due tèmhi e in questa notte è a tua patria Inizio che sa прирoda, per loro, lo chiesilyo. Hristin muodone? Non insinbst hippolata. Perché noi siamo iniziale. Quando il paese di rafferci? A cosa è iniziale? Negli bocati di rispolata. Ogni un'azienda per il nostro ricambio. Per l'indipotente. Per le affianzioni, carine. Enbalizzazioni. ma anche le fannozioni. E' un bambino. Non c'è una moda di portare a tutti gli altri, ma può sentire a tutti gli altri. E' un problema. 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 Non si. che ascoltiamo la caratta di un'amore, non lo facciamo semplice, lo stupiamo, credo che ci fanno fai con il caffè, ci fanno fai dal nostro cuore. Quando siamo solo, non è capito, siamo chawati, ci siamo inizioni, per questo abbiamo fatto il nostro video, abbiamo fatto la telegrazione, abbiamo fatto il tele, ma ci siamo fassati. Perché non è difficile da ascoltare il nostro cliente. Quando possiamo e ascoltare la carattina, e non infiduriamo e non fomento e non infiduriamo in questo sentirà non infiduriamo in questo terzo oltre e Ю seniori è molto facile lo che accorna è in questo nostro lo che noi ci diciamo e alla nostra che possiamo in questo nostro possiamo e anche l'asso e il resto è molto importante di ascoltare con un altro, non siamo in ipo ascolti. Ci sono ragazze, sono ragazze, e mi paragono per gli altri, o anche per gli altri, non per gli altri giovani, ma per gli altri. E perché i ragazze, sono ragazze. Ci sono ragazze e mi paragono. Ma prima di paragono, bisogna ascoltare l'altro, qual è la verità di lui, qual è la verità di lui. Qual è la verità di lui? Qual è la difficoltà di lui? E noi, perché siamo fomentati, amici, amici, semplici, semplici, stai, dobbiamo creare l'altro, dobbiamo creare l'altro. E perché creiamo agonistico? E' questo è un risultato. Quindi, ci si trattiamo per gli altri, per gli altri, per gli altri. E' questo è un risultato. 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 questo è un esplorismo per questo motivo la vita è un esplorismo un esplorismo un esplorismo perché ci sono delle progettazioni a questo esplorismo se ci sono i nostri amici i nostri amici quando quando si 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 su si 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 avvodice della terrazza, di crisi di risponico, di crisi di risponico, di crisi di risponico, di crisi di risponico. E questo il suo punto di risponico di risponico, di risponico, di risponico, di risponico, di risponico. È il maestro di Gesù, lo fa a fare da, lo fa a fare da, lo fa a fare da, da ciò che è il suo modo da. Gio che noi febano, ciò che è un problema, sono dimentichi, ciò che ci sta dicendo tutto, come facciamoci a fare da, come facciamoci a fare da, come facciamoci, a tutti i conoscenze io faremo una morte Ecc writer. Ma come così fa avano i decidedly? Paso per fare non sbattare! Non per obiett thumbnails. Ma per vedere la verità e l'antica politica Perché ah svegli io ci chkle buono ciò che vi sp까요? Qui stiamo qui. Anto живo io sono io. ho fatto che vi voglio essere il tuo Popolo. Sembile e cuorezza è il tuo corpo mi ha visto questa vita Medio di questo non è una fegno noto cosa sono questo Non c'è un altro che vuole non è un'verso di essere un'verso l'attivazione di vita che voglio di andare nascita e i fatici le difficoltà sono le rispondenti e le rispondenti e ci sono l'acquiettel che non possiamo solo non possiamo ma le dobbiamo ma le dobbiamo il soggetto è un'acquiettel che stavano l'acquiettel è un'acquiettel è un'acquiettel è un'acquiettel noi si acc suffiano aiutano si accontano l'acquiettel che credo e l'acquiettel e l'acquiettel e l'acquiettel ma è un'acquiettel è un'acquiettel ma è un'acquiettel ogni un'acquiettel si è solito Ci spiegliano, praticamente crumbs dalla globa, in modo che non mi ha umano. Ma gli sottot�ριmi, ma gli sottotitoli, ma gli sottotitoli, ma gli sottotitoli. Ma, magari, mi è piaciuto, mi fa. Ci sono rilassi, ecco quello è un' amico, ma ci facciamo questi due in quanto non va bene. La cosmosisca è la biazione, sono le cose, sono i perevatori del qui. Il mondo dice che vi sono piaciili, ma che vi ha parlato di chiari, Non è un modo migliorativo, ma un modo migliorativo, migliorativo, migliorativo. Abbiamo, quindi, con questa idea, che l'aggo è che faremo prima di noi, ma anche l'Evangelio e l'Evangelico, ma anche l'Evangelico. La Pistole, la Pistole, per l'Evangelico, per l'Evangelico, come la vita e la vita, come la vita, e non è una cosa, il nostro Stav 3300 euro, il nostro Stav 3400 euro. Il suo suo Stav 3300 euro, il nostro Stav 3300 euro, è un un stato frappato, i restri cittadino, e, in questo, il nostro Stav 3300 euro, è un po' meno santo, il nostro Stav 3400 euro, è qualcosa di più grande di una fisica edizione si chiama la città di un'opportunità di un'opportunità di un'opportunità e di un'opportunità e di un'opportunità E' un'azienda più facile Un'azienda, cosa si riusciteva? La problematica, la bambina, il programma di loro Sì, ho parlato di altri temati che ci sono molto più. D'allò, sono i temati che ci sono i temati, e il corpo e la carità. E che ci sono altri temati, il amore e il amore. Ci sono i temati, i temati, ci sono i temati, che ci sono i temati. Il soggetto, il soggetto, ci sono i temati che ci sono i temati. e che ci rende più iniziati, che ci rende più iniziati, che il nostro srattore è il suo srattore di questa vita, non ci rende più iniziati. Anche i loro che hanno una vita di penevittura, i loro hanno una vita di penevittura, i loro hanno una vita di penevittura, sono inizierate, non inizierate. Ci hanno fatto, non ci hanno fatto. quindi, quando si commolivamo, quando si riconoscerebbe una paura di amanti, dovremmo anche conosci bello, dovremmo anche una proposta ma la metà di penevittima, una risposta, un problema, un progettivo, un insuribili, un problema di sospettiva, non funzionano. Ma questo è la gliscita delle relazioni, le loro i 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 loro. Come abbiamo un'occhio, dove ci sono bisogno di un'accio di vita, il mio cuore non è possibile, perché hanno un'occhio. E non c'è nessun bambino, siamo tutti fatti, siamo tutti fatti, e l'accio di sì, in un'accio di t'accio, in un'accio di vita, dell'uomo di vita, della sua vita e dell'uomo. se siedono i bambini di malocchio senza scolastico, si siedono in inginini, e si siedono in questo grado, potete il centro il centro al quale si riscrivono la vita. È una parte dei momenti di di vita. Un paese di quelogo dice, a spesso, di fare lo stesso ci sono così e ci sono e ci sono e ci sono in un certo modo per farlo qualcosa di tipo che non è di scelta ma non è un'alleggetico non è un'alleggetico ma è un'alleggetico ma è un'alleggetico ma è un'alleggetico che è un'alleggetico ma è un'alleggetico che si metà e ci siano sono nella sua vita, ma un modo, una situazione della vita. E questo è il modo, questo è il modo, questo è il modo di gestionare le loro e il modo di gestionare. Il modo di gestionare il modo di una situazione, perché non è possibile da qualcosa di sintonizzare e di fare una situazione a lui. E' perché il modo di gestionare questo, il modo di gestionare questo. Perché il modo di non sentire, risponderemo il modo che si rispondono. e cosa sta a tutto questo? l'accompancia? l'annara? l'accompancia? L'accompancia il resto e l'accompancia? Questo qui non è successo in un bulbo e nel senso di sua moglie. E' per questo è molto bello. Come abbiamo le suscoltazioni che abbiamo la giovane, lo devoliamo a le riso, devo provare le farne un cuore, noi vogliamo che vogliamo fare. Ma che ci siano domande, che ci siano gli altri, ci sono cose che siano i loro. Ci rispіти anche un'erroity, se c'è un'erroity? C'è un'erroity che c'è un'erroity, se c'è un'erroity che c'è un'erroity. Si c'è un'erroity, se c'è un'erroity, si la prima cosa è, ma che c'è un'erroity. E' un'erroity. Ma che c'è una cosa che ha persociato di farlo e di farlo, quindi la mia importanza, come si ci sono? un'atu grande altissima non ha lasciato il l'Apostolo ha scissato ha accorsato e il l'Apostolo spieole attraverso il pune attraverso attraverso che c'è una piscina di Dio, è così si succede. Come su M.Pổffire, come dicevo, ha un'exovalogetto, un'exico come giudice, che aveva un'exico, 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 è il paese di Dio. E il Giorno, quando faccio il M.Polico, gli un'exico chiuso di Dio. Non, Giorno, perché spieghi, è un'exico, perché mi faccio? Perché il Giorno? Non ho chiuso, non ho chiuso, è un'exico, non ho chiuso, è un'exico, è un'exico, ma è un'exico, no, questo è quello che si è un'exico. questo è quello che viene quindi viene quindi non è quello che fa il penevatico poissima è questo che è il dimentico perché stiamo a cercare di attraverso per il corpo per la loro attraverso per la loro attraverso per la loro attraverso il suo figlio è un'acquisto nel suo figlio perché il penevatico è quello che non è un penevatico è un'acquisto è un'acquisto Ma è di essere un pognito, quando ci siamo fatti, il terzo pono e il carico e il amore per l'altro. E il Dio è di sopia e il traccia e il riso, e che si chiama e si chiama, il riso è di tutto il nostro. Non è che ci si chiama, perché è un pognito, ma 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 è un pognito. E non siamo chiusi nella nostra natura e al nostro serviciero. E non lo parliamo con le parole, ma è un'attesa. Questo è il suo risultato. Questo è la perema di questo. Questo è un'ottono, 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 un'ottono. Questo è quello che gli altri. Perché quando fighi l'enthusiasmo del loro, che è il tuo reso? cosa succede? cosa succede? l'agave, che è il più erotico ma questo non è un senso è una diargetizazione stiamo a mettere con l'altro ma lo soggio quando l'altro fa fissi e lui ha fatto una sinistra in questo modo, da un modo ma lo soggio anche da un altro che ha dentro il suo credito che ha dentro il suo credito che ha dentro il suo credito il suo credito e il suo credito e il suo credito e il suo credito è un'attività non è che ci sono per le raggiungere che mi ha fatto ma parlare non è un'attività c'è qualcosa di più la scena la scena la scena che ci si è un'attività che ci si 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 ci ci si 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 si ci si ci si ci sce di riecazione, di riecazione. Perché non è una propria trattata, ma è una propria trattata in cui non è capace, ma è una piazzata. Ma, come, anche, con la credenza di Cristo, non è facile per essere in cui abbia la loro vita, la dittura, la loro ιδέo, la loro previsione, la loro capacità, per la nostra preghemmatica. La nostra costruzione non è necessario, ma che abbiamo anche un'impsychismo, che è stato stato attraverso. O cazano è un'impsychismo in un'impsycholata, è un'impsycholata, che è iniziato a questo. Molte gli agii avevamo psicologiche problemi. E quindi ci sono stati a questo, bisogna capire, non siamo sottili, non è un'impsicholo mavro. Possiamo, vogliamo essere dal Cristo, ma abbiamo anche un'impsycholata, 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 che realizzano molte problematiche. E' la gente ha fatto capire l'acquesta, in questo modo da questo, o da questo terzo ambiente, o da queste domande, o da queste domande, e abbiamo anche le nostre problemi e ciò che hanno le nostre problemi e le nostre difficoltà, la nostra partecipazione, la relazione, la relazione, la relazione, la relazione, la relazione, il rischio, il rischio, il rischio. Giamati siamo tutti tutti, i due, i due. più amici, più amici ma questa ripetizione ma la loro è un'accomando ma viaggiano ci sospediamo e sono giusto ci sono la testa a tutto è una piccola traduzione è un'accomando è un'accomandola non è uno non è uno non è una cosa chi fa un trauma nel tuoreeto va avanti va avanti è anche il nostro territorio non si sorprenderà è il nostro pericolico non si sorprende no, non si sorprende è bene, è il nostro pericolico che ci c'è l'eserci no, non c'è l'eserci ... ... ... ... ... che ci sono anche il nostro corpo, ma che si è stato fatto, ma non è nulla. Questo non è un'occolta. Il nostro figlio per i figli, per i figli, per i figli. Per i figli. Per i figli, per i figli, per i figli. Per la mia vita, per i figli e amici, per i figli, per i figli. Per i figli. Per i figli. un'unico obiettino, un'unico, un'evoluzione, 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 come dice un'alto Paese, aggiorando un'evoluzione, 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 un'evoluzione. La grazia che è potenuta, è che tende ad un' chiudere, che si è una persona, è che si è un'amorato, è un'evoluzione, Questo, in cui, viene da attraverso il servizio, avvito il servizio. E lo sorelle, andate in cui lo skypezi. Voi creare di più nel servizio per il servizio. Questo vuoi fare un territorio ma interruttifiche. E che si non per l'arrivano, ma a scolcio. È un'钉. Questo è un'area di un certo dei nostri amici. Deve averlti e sottotitoli, perché non ci sono forte. Inoltre, magari magari ci sono, mi raccomando, mi diceva che, ma spavano ore non ci si sono. Perché ove, magari magari non ti mette le dire, ma ci sono. Perché ti senti il mio endocrino? Perché facciamo un altro capo maθηmano, un altro. Quando, allo stesso, ci ha una situazione, un altro, che ha un altro punto, ma questo punto è il nostro terapè ma un altro, perché non è un altro capo maθηmano, ma ha un altro modo, ma è un altro modo di diritto, cosa facciamo i bambini e i bambini? E'vno chiuso i bambini. Non ci faccio i bambini, non ci faccio i bambini, ma che faccio i bambini, ma che faccio i bambini? Una giovane che ha tutte le miele, si è un'occhio, si è un'occhio, si è un'occhio, ci faccio i bambini, non può essere buonare. E' un'occhio, non ci faccio i bambini, ma che faccio il ilico poverso. In termini, i progetti e il tempo e intraprendo per esfolio e per espanso e per espanso, una situazione e per espanso non ho dubbio per espanso con il quesso, però è che il Gioche l'acquante, il Come per espanso. Io voglio per espanso, non per i non, ma per espanso... E noi vogliamo un'allàxione perché sentiamo che ci stigia. Entrani, l'anthema non è anche questo. Allora, ma non è quello che lavoriamo. La cosa che ha fatto è che vogliamo un'allàxione, è che vogliamo un'allàxione, e che vogliamo un'allàxione che non posso un'allàxione, ma non posso un'allàxione, e che vogliamo un'allàxione, e che vogliamo un'allàxione, così è un'allàxione, e che non si fa e non si fa, ma è che fissicare. A sentire il fronte dell'altro, il sentimento dell'altro. Ma iniziamo anche in una situazione, a pregermi l'anagio dell'altro, a capire il modo, a capire il modo, a capire il modo che è e che è necessario. E' questo che ci ha dato, che ci ha chavato. Abbiamo un'esperienza di fare un'amore di diventare il nostro lavoro, e di diventare il nostro lavoro, perché ci sono i nostri amici. Ci sono un'esperienza di fare il nostro lavoro, ma fare qualcosa di essere un'azienda. È molto importante questo. E se ci sono un'esperienza di trovare il modo di farlo di fare il nostro lavoro, E noi ci siamo molto felici. Ma stiamo in questo modo. Ma stiamo in questo modo, in questo modo, non abbiamo l'escrizione a fare questo. Non abbiamo l'escrizione a quello che ci siano, che ci possiamo ascoltare e ci possiamo dare a questo. Questo, che vediamo, che in questo modo, vogliamo, non ho il l'escrizione al'altra che è una cosa che può capire e che si siano le scoperte e che si siano le scoperte e che è in questo modo che ci si è un'escrizione che non è un'escrizione non ha una ragione. Perché non è una ragione, ma non è un'escrizione ma quello che ha un'escrizione E' un po' di più di più di più di più di più di più. Ora stanno a pari, ma è molto importante per essere un'andrallare per la nostra attrazione di una ragazza, per non farlo so con il giovane, ma è quasi un risotto per la ragazza di una giovane, ma è stata una ragazza di una ragazza, un'esplante per la ragazza, per la ragazza di una ragazza, che per la ragazza di una ragazza di una ragazza di una ragazza. Si diceva che vuol dire, è una ragazza di più astruzione, più eutata, più iniziata, ricbiamo di rispondi un papà che riuscano stiamo riuscola abbiamo fatto una piacca purtroppo e siamo stessi e sessi sono veramente ec strutturati ma accogli sono più di ecco sono più ecco una casa una casa un'espolice non è un'espolice e guarda una stanza sa fare il 2 questo sarà questo abbastanza il suo E' un' altra cosa che si può fare, cosa si chiudeva. E' un' altra cosa, ma se chi è che il mio figlio è un' altra, e' un' altra cosa, che mi ha fatto. Che mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha parlato, siamo qui qui, siamo qui, non è un' simpatiale, ci siamo un' altra cosa. Non ho ascoltato, non ho accolato. E' un' altra cosa che mi ha fatto. E' un' altra cosa, è un' altra cosa che non è un' altra cosa. la prima volta è stato un'acquête di lui, un'allora di una madre. E' questo che fa' questa madre, non è così, è un'acquesta è un'acquista. E' questo è coso. E' un'acquota, ci si rimaruniamo. E' siamo in 10 o'acquesta diventa, andiamo e volemmati. Non è semplice, non è semplice. Non è semplice, non è semplice. Voi mai diventare il autore e ti sede che ci senti. Non è successo quello che ti sceglie, gli avessi è avessi vero i tono. Noi è successa una cosa. e questo lo farà a chiudere, giovani, cercare le vostre giovani, rendereli più strumento, più saurigitato, più semplice E' vero molto! E' un'intensa, quasi 20-20 anni, ma anche i più oltre Ma devi andare in fronte, se vede prendermi qualcosa di ottenere le cose, si è una vita vita e possiamo ridurre le cose ma non è il problema. Ma è il problema. Abbiamo l'interno della vita, questa cosa dicevole, per l'attere la nostra relazione e per la progettazione è questo il tema che abbiamo fatto. È appena di fare il giocatore di riusci, di riusci ma più importante è di riusci di riusci per esempio che è un'attere per esempio cosa è l'attere? C'è la gestione di riusci 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 di rasci di riusci di riusci di riusci questo per a che diventa il corpo, non è un forte il corpo, ma il corpo ha bisogno di avere la propria del corpo ma il corpo è necessario, il corpo, il corpo, il corpo, la sua pelle, il corpo, la sua mente, il corpo che si è necessario, una propria, una propria, un fosso non potete capire per il corpo, se non posso piersere bene se non voglio questo e non faremo queste cose e non faremo questa cosa e non faremo questa storia e non faremo le impostazioni per il suo altro questo è il suo tempo quindi fanno vedere che vi voglio che il rapporto è un'usia è una storia per quanto fa una volta e per il trento, per se sanno, sanno altri oppure altre? Quindi, questo nel nostro corpo deve essere una esoterica omoficiata, che vedevano l'altro, che vedevano l'altro, e che vedevano le proposte, che vedevano più altamente le cose che avevano l'altro, l'amore del Dio che avevano l'altro, l'amore del Dio che avevano l'altro. Questo, λοιπόν, απαιτεί, λεπτότητα ψυχής, che non è vero il nostro corpo, il nostro corpo, l'amore del nostro corpo. Questo che chiede e chiede il nostro Christo, è il nostro corpo, è il nostro corpo, è il nostro corpo. Questo è il nostro corpo, è il nostro corpo. Questo è il nostro corpo. si affrazzate, nella quarta razzio, ως κοινωνico, ως epioicea e accompagdità. L'amore del lato, lo sindiciamo e non vivevano la fai. L'amore del nostro corpo, l'amore del di esso e non vivevano l'amore del suo corpo. e se si avessi il regno, se si avessi che si avessi il regno e si avessi il regno, e si avessi il regno che si avessi non avessi, e non è il regno. E si avessi l'impasto che ha avessi il regno. Ma rischia in grano che il regno è sempre che sia un ragazzo. Questo è lo che imponfittà l'ascizione, il stagno, il nostro fricolico e i dimenti. Ossò daremme aksia e ti muo con un altro, tòsò più pieno gioviamo in generazione e tòsò più caldo è diventato anche il altro. Quando c'è un'attività, c'è un'attività, c'è un'attività, c'è un'attività, 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 un'attività e un'attività per migliorare un'attività. Un'attività, un'attività, la qualità, ogni mani ha un'attività c'è un'attività che fa cosa ha il nostro, è come un'attività, come un'attività, come un'attività, come un'attività, come un'attività. In questo senso, noi abbiamo, la nostra virgola, l'attività, i'attività, Non c'erano molte parole e consigliere, perché il suo figlio ha fatto qualcosa di più importante. La vita ha fatto il suo figlio e la vita. Questo è il suo figlio e il suo figlio. Ma e il suo figlio e il suo figlio. Quando il suo figlio, il suo figlio, non c'erano il suo figlio, lui notano il suo figlio e il mio giallo, la mamale credesci per il suo figlio e il suo figlio. Solo stato il suo figlio. Ogni è di quel tempo. Svegliere di questo bagco, Non è l'acquietto, non è il loro stato che non è spattoso. Non è spattoso, non c'era più spattoso. E non mi hai scattoso. Un altro è uno che è un dittiero, un altro è uno è un dittiero. Un ero è un dittiero. È un sedevo per la ricca che si era un dittiero. Dittiero hai. e dai fari dacetterei payoliamocicersi abone quello che CHA worn ciême non so ragazza questo non èテ�onese Bisogna fare permane a stare ap obviamente il vino e non non pensossi stavano per il suo come vi faccio la vita e le cose che gli altri quando vedono, assistono e vissero il nostro amico il nostro amico il nostro amico ciò che ci è un'attività per cosa è il mio amico quando vedono il nostro amico il più ampio il nostro amico che ci sono le cose che ci sono le cose l'accuso di Christus. E' stia, che è stato? E' stato depressione, e' stata si accade city. E' stato fatto l'accusazione. E' come lo ha detto E' stato un pieno %, E' stato un grande Cristo. E che lo faccio? E' come andato e scarlato la morte che è una vita e ha demizzato, ως περαστής και την παντρέπεται e lei tante con questo modo αποκαθιστά anche την παρθηνία di voi questo è quello che ha fatto una scena natale saargώνεται mi piace del nostro modo si arriva nella nostra si arriva nella nostra si arriva nella nostra casa si arriva nella nostra casa e si arriva e se ci si facciamo e sassolo questo ciò che è la differenza della vita e questa è la differenza della vita della vita della vita che ci ci ciò che gli altri più ciò che ci sono attraverso ma questo modo, potete accettare altri il risotto ma io sto dicendo, se non è mai fatto ma non lo faccio, perché non ti farai tuo papà ma non ti farai tutto questo, non ti farai Ha avuto inizia una singuridad di traverla ma, chi li li liano all'accommodo per resistere la способa alle che avvano i nostri amici e attivano accadere l'accommodo e che di aprirare quello che spavano e credo inizia in questo credimento della prima parte della composta ma prima che spavano incontro inizia per una sola e essere molto importante di crescero Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.